Dal 5 febbraio non sarà più possibile raggiungere direttamente la stazione di Bergamo partendo da Lecco. Fino al dicembre 2026 i viaggiatori saranno infatti costretti a scendere alla fermata di Ponte San Pietro dove troveranno i bus ostitutivi che li porteranno alla stazione ferroviaria di Bergamo. Stesso discorso perché viaggia lungo la linea ferroviaria Milano-Carnate-Bergamo. È la conseguenza dell'avvio dal cantiere di rete ferroviaria italiana per il raddoppio dei binari tra Ponte San Pietro e Bergamo. L'intervento, che costa 97 milioni di euro, comprende anche la realizzazione della nuova fermata di Curno e l'adeguamento della fermata di Bergamo-Ospedale, scontati i disagi per i pendolari. Per alleviarli, Trenord ha studiato un piano con la prefettura di Bergamo. È previsto un servizio sostitutivo su bus per i collegamenti ferroviari soppressi nella tratta interrotta. Arrivati a Ponte San Pietro, viaggiatori studenti troveranno i bus che li porteranno a Bergamo. Il loro numero è stato calcolato tenendo conto della frequentazione dei treni. Gli orari sono stati definiti per garantire la coincidenza. Un'attenzione particolare è stata riservata agli studenti. Le corse dei bus sono state organizzate sentendo le esigenze degli istituti scolastici per garantire l'arrivo dei ragazzi a scuola prima dell'inizio delle lezioni e il ritorno a casa al termine. Sulla linea Bergamo-Lecco, i treni viaggeranno fra Lecco e Ponte San Pietro mantenendo l'orario attuale. Mantenimento degli orari anche sulla linea ferroviaria Milano-Bergamo-Via Carnate. In questo caso ci saranno anche tre nuove corse, due al mattino da Milano-Porta Garibaldi e una in serata da Ponte San Pietro. Per gli studenti che partono dalle stazioni ferroviarie di Calusco, Terno d'Isola, Cisano-Caprino-Bergamasco, Pontida, Ambivere-Mapello, collegamenti diretti a Bergamo.